Qualcuno mi ha detto, ma tu hai degli alleati scomodi, no no, io non ho contratti con le società milanesi. Come chi? Come, come, non riesco a pronunziarli, presidente, come si chiamano, come quelli che hanno rubato la bandiera americana 5 Stelle. Non ho... Scusa, questo è un fatto importante, io non sapevo che le avessero rubate le 5 Stelle. Oh, una bella notizia, sei sicuro? Sono sicuro. No, mi veniva voglia di mandarli a fanculo. Spero non ci sia mio figlio perché è un fan del presidente Berlusconi e ripeterà questa parola all'infinito. Spero non ci sia interessante. Grazie a tutti.